Avviso esplorativo senza bando di gara per la discarica di Santa Lucia, i lavori per la bonifica possono finalmente partire dopo un ventennio, con determina dirigenziale emanata da Palazzo San Francesco, è arrivato il via libera l'avviso esplorativo per reperire operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara da giudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto ha un costo complessivo di 450.000 euro, una storia infinita che va avanti dal 2002, attenzionata dalla procura di Sulmona, che nel 2016 aveva aperto una nuova inchiesta contro i gnoti. Nel 2017 fu istituita una commissione durante le ragasini. In una sola notte vennero lasciate 2.500 tonnellate di rifiuti speciali con la scusa di utilizzare materiale per alimentare una centrale di energia di un'azienda agricola, rifiuti di ogni tipo arrivati dal napoletano. Passa un decennio, nel 2012 il Comune, sollecitato dalle proteste dei cittadini che chiedevano la bonifica della discarica in quanto poteva causare l'inquinamento delle falde acquifere e dei terreni circostanti, aveva provveduto a inserire in un programma triennale l'impegno a bonificare l'aria, impegno che prevedeva una spesa di circa un milione e mezzo di euro e che finora era stato disatteso, lasciando intatte la discarica e la condizione di disagio e di rischio che vivono i residenti della contrada Santa Lucia.